Massimiliano, Alletri Numero 2 di 3, Molice Cessli Numero 3, Giorgio Chiellini Numero 5, Miralem Bjanic Numero 8, Claudio Marchisio Numero 10, Cuauro Tibala Numero 11 Numero 12, Duras Costa Numero 14, Gilles Maduidi Numero 17, Mario Mazzucic Numero 22, Cuauro Azaba Numero 24, Daniele Rugani Numero 27, Stefano Sturano Mazzucic Speri Buongiorno e buonasera a tutti, bentornati sul mio canale, io sono Asनath, siamo qui ku' la live reaction della partita di coppa Italia Pamela. Ecco, siamo commossi, è in sciopero, tra i sport e in sciopero, fanno vedere la partita senza commento. Eeeeeee, è la cosa più bella che potesse mai capitare nella nostra vita, mamma mia! E c'è pure il coraggio di dire, ci scusiamo per il disagio, ma il disagio di cosa? Il commento della Rai è la cosa più pietosa che esiste nella storia dello sport, soprattutto quando gioca la Juve e il Torino, che sono le due squadre più odiate in assoluto per quelli della Rai. E quindi stasera ci godiamo la partita, ce la godiamo proprio con lo stadio, l'Allianz, stadion che sentiremo solo quello, è bellissimo, saremo coinvolti nella partita, quindi buon divertimento. Juventus con 4-3-2-1, Sturano terzino a destra, lo rivediamo dopo un sacco di tempo, va bene, va bene. Partiti! Vai! Juventus con la destra a sinistra! Vai, vai, pressa! E' che l'ha aperto questa parola! Bella, bella, vai! Oh! Sì, Douglas! Vai, Blaise! Uuuuuh, Bjanic! Bella, bella! Nooo! Mamma mia! No, ha sturato ragazzi stasera, eh! Cioè, è andato a vuoto di testa, ha consegnato il pallone. Vediamo se il Torino finisce la partita in un'idecina. Sì, Mario! Mamma mia! Che guadagnolo! Nooo! Duglia! Grande! Grande! Sotto l'adversa! Costa! Costa! Qui errore di Dybala che poi fa l'assist involontario. Guaduo, bellissima azione. Sotto l'incrocio, bellissima. Su primo palo. Bella, bella, il volo di controvalzo. Che golasso. Uuuuh, mamma che lancio di piani c'è il volo. Vai, Paolo! Uoooooh! Che tiraccio! Occhio! Occhio! Paolo! Paolo di Niang! Bella, Mario! Vai, Paolo! Sì, Paolo! Ma lì devi tirare, Devi! Non ti devi buttare per terra, portocane! Vai, Chiello! Bellissimo! Mamma mia! Perché c'era Sturaro lì? Cioè, Chiello ha fatto una roba bellissima. Poi Sturaro c'ha due scatole delle scatole al posto dei piedi qua, che miseria. Ma Chiellini che lancio! Dai, Douglas! Dai, Douglas! Uuuuh, cosa ha preso? Dai, Costa! Dai, Costa! Goal! No! Su rigioco. Bella! Vai, Paolo! Adepiata! Occhio! Fine, primo tempo. Partita dominata. Cioè, primo tempo dominato. E poi concediamo quel due o tre occasioni. Mamma mia, ragazzi. Un palo. E per il resto, buona gara della Juve. Sturaro da infarto, per gli errori che fa. Ma poi, basta, abbiamo sfiorato il 2-0 per un paio di azioni. Douglas Costa, il migliore in campo. Con Asamoah. Assolutamente. Gran partita dominata. Ci vediamo se è pronto. Vai, cominciate, vai. Eh, l'ha visto, l'ha visto. Uuuuh, Mario! Vai, 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 vai! No! Come la lisciata! Bella! Uuuuh! Che cosa si è mangiato? Che cosa si è mangiato? Che cosa si è mangiato? Che azione! Bravo l'incontro. Bravo. C'ha i piedi triangolari. Vai, Mario! E non ce l'hanno fatta vedere, sti disgraziati della Rai. Perché loro inquadrano così a caso. E comunque io andrei a rivedere a Barro, perché secondo me il nome è un fallo di cera. Barro. Giustamente. Perché secondo me è un fallo. È gol. Ci ha dato il gol. Va bene. Cioè, Mihailovic ci ha mandato a quel paese direttamente l'arbitro in faccia. No, ha preso il pallone. E ha preso insieme l'avversario. Quindi, l'arbitro dice, ha preso la palla. L'Alekskaner l'odio. 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 Ma cosa? Si mette le mani in faccia, si rotola. Quando si sono scontrati così, di petto. Faccia la deficiente. Bravo. Sì, di bala. Mamma mia, non ha zecca neanche un pallone. Non ha zecca un pallone. Sì. No, mamma mia, che recupero. Bella place. Cosa ha preso Morinaro? Mamma mia, Morinaro ha fatto un pallone. Il pallone è un pallone. Sì, non so, si diceva. Il pallone è un pallone è un pallone. Bravo, Mario. Sì, Gonzalo. Sì, Gonzalo. E comunque la Rai continua a non farci vedere le azioni. Inquadrano allenatori, tifosi. Inquadrano tutto tra le azioni. Chissà che non inquadrano le azioni, siamo già in area. Mamma mia, i piedi esagonali. Sì, questo qui, rinconno. Oh, è scaduto. Finita. Vittoria meritata. E si vola il semifinale contro l'Atalanta. Occhio perché stanno in partita. Ho sticcato. Un saluto a tutti. Sì, grazie.